Cari amici, un saluto speciale dal mago Elvin, mi trovo all'interno del casino Perla di Nova Goriza, esattamente in Slovenia, dove da poco ho finito il mio nuovo magic show, Amazing Illusion, con tanto calore da parte del pubblico. Questo video messaggio per dirvi che il 20 ottobre inizierà la nuova stagione di Attambur Battente Show, è un talent fantastico condotto da Daniele Berini e andrà in onda sui canali della Fox Production. Io sono ospite in diverse puntate e vi aspetto numerosi davanti al televisore. Per sapere le emittenti potete naturalmente guardare il sito www.ditutto.it. Vi aspetto dal 20 ottobre a Attambur Battente Show. Un saluto dal mago Elvin.